Furono loro che suonarono la carica di Pastringo il 30 aprile 1848, quando tre squadroni di carabinieri per salvare il re Carlo Alberto, messo in pericolo dal nemico, si lanciarono all'attacco finendo per travolgere e superare le linee austriache un'epica impresa ancora e sempre rievocata ai giorni nostri, nell'ultima coreografia figura dell'attrizionale già citato carosello storico. La fanfara del quarto reggimento carabiniere a cavallo intratterrà ora il gentile pubblico con alcuni brani musicali. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!